Napoli in Abruzzo, Presidente Marsilio, motivo di grande orgoglio per la Regione? Assolutamente sì, siamo ben felici di accogliere a braccia aperta il Napoli Calcio, che porta peraltro in dote quest'anno tre campioni d'Europa, quindi grazie a questa meravigliosa squadra e ai suoi tifosi che allieteranno e rallegreranno fino a Ferragosto la permanenza qui nell'Alto Sangro. Cosa si aspetta da questi giorni del Napoli in Abruzzo? Ci aspettiamo quello che è già accaduto lo scorso anno, in misura ancora maggiore quest'anno, perché finalmente con la vaccinazione la pandemia fa passi indietro, si può riconquistare qualche spazio di libertà in più, quindi più presenza allo stadio, più presenza nelle piazze, più partecipazione popolare agli eventi, quello a cui abbiamo puntato con questa collaborazione con il Napoli Calcio e utilizzare questa occasione per fare la promozione che al nostro territorio è spesso mancata, far conoscere le sue meraviglie, le sue eccellenze, la capacità anche organizzativa e dare un'immagine appunto positiva dell'Abruzzo in tutta Italia e in tutto il mondo. Presidente De Laurentiis, intanto grazie per aver accettato il nostro invito, bentornati in Abruzzo, quanto le piace questa regione? Per me è stata una grande scoperta, conoscevo alcuni posti, non conoscevo questi posti di montagna e quindi io devo ringraziare il Presidente della Regione, Marsilio, perché ci ha ospitato con una grande, diciamo, benevolenza e dandoci dei servizi sempre improntati al massimo della qualità. Quindi vuol dire che in Abruzzo c'è qualità e si può lavorare molto bene. Quest'anno, oltre a Casteldisangro, anche Rivi Sondoli, si allarga sempre di più il Napoli in Abruzzo. Beh, diciamo che comunque il comprensorio di Casteldisangro riunisce tre situazioni molto particolari. Casteldisangro che ha una struttura di impiantistica sportiva fuori dal comune, poi abbiamo Rivi Sondoli che ha delle dotazioni alberghiere di grande livello, poi, vabbè, c'è Roccaraso che, diciamo, è importante nel gruppo delle competizioni sportive agonistiche, sciistiche a livello europeo e poi abbiamo un gioiello che è praticamente Pesco Costanzo dove i Borboni albergavano in maniera regale e questa regalità si percepisce camminando per le strade e per me è stata una scoperta straordinaria. Per uno che fa cinema e che bada molto al protagonismo scenografico delle location, devo dire che Pesco Costanzo è una situazione assolutamente non da ignorare, non da dimenticare, ma da visitare a tutti i costi.